Salve e benvenuti alla presentazione del corso in conservazione e gestione della fauna per la laurea magistrale in scienze della natura. Io sono Carlo Rondinini, docente di questo corso, e la mia attività di ricerca si incentra sulla biologia della conservazione e in particolare sulla valutazione del rischio di estinzione, delle priorità di conservazione e delle azioni prioritarie di conservazione per i mammiferi terrestri e più in generale per i vertebrati. Non qualche escursione ogni tanto anche nell'ambiente marino o nella fauna invertebrata. Oltre a insegnare a questo corso, sono coordinatore del Global Mammal Assessment, che è un'iniziativa in partnership tra l'Università di Roma La Sapienza e l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, la IUCN, per monitorare il rischio di estinzione dei mammiferi nel mondo e pubblicarlo sulla IUCN Red List, la lista rossa. L'epoca in cui viviamo è definita antropocene, l'era umana, quella in cui i processi antropogenici sono dominanti su tutte le dinamiche naturali del pianeta. E questo sta causando una crisi della biodiversità. In questo contesto noi ci occuperemo di stato della fauna selvatica. Per esempio sappiamo che circa un quarto delle specie che sono state valutate nella Red List è il rischio di estinzione, con punte anche oltre il 40% negli anfibi e grandi problemi anche per esempio per i coralli negli oceani e negli ambienti marini, un terzo delle specie di coralli a rischio di estinzione e in rapidissimo declino. È una situazione meno chiara per gli insetti ma sicuramente anche loro in forte declino. Parleremo di dinamiche e tendenze delle popolazioni. Per esempio questo Red List Index è un indice che riporta il rischio di estinzione anche regato di un gruppo di specie, in questo caso per esempio tutti i coralli, tutti gli uccelli, i mammiferi, gli anfibi e sopra diversi gruppi di mammiferi. E come questo rischio di estinzione cambia nel tempo? Quando il Red List Index diminuisce l'intero gruppo di specie si sta avvicinando all'estinzione e sappiamo che da quando il Red List Index viene calcolato le specie si sono sempre avvicinate all'estinzione. Parleremo anche dei processi antropogenici che determinano questo declino della fauna selvatica e della biodiversità in generale. Uno fra tutti il cambiamento climatico che ha già un impatto molto forte su tutta quanta la biodiversità a tutti i livelli e avrà un impatto sempre più forte nel prossimo futuro. Parleremo anche di azioni di conservazione, tra le quali le aree protette sono sicuramente una delle principali ma certamente non l'unica, faremo un'ampia panoramica di tutte le possibili azioni di conservazione dei loro pro e dei loro contro e vedremo come le aree protette siano state uno strumento fondamentale per in qualche modo favorire la conservazione delle specie ma vedremo anche poi quali sono i limiti della espansione delle aree protette, anche i limiti della gestione naturalmente delle aree protette, tutti i limiti pratici al di là della teoria nel rendere poi queste aree protette realmente efficaci. Infine gli scenari. Gli scenari sono un sistema strutturato per immaginare un futuro diverso, diverso dalla tendenza osservata negli ultimi decenni. Gli ultimi decenni sono stati purtroppo un susseguirsi di fallimenti nel campo degli obiettivi di conservazione della fauna ma anche della flora, della biodiversità in generale a scala globale, regionale e locale. Ma non è detto che tutto debba proseguire in questo modo. Utilizzando scenari prodotti in settori diversi, per esempio scenari di tipo climatico, di tipo economico, di tipo sociale, è possibile valutare quali potrebbero essere gli effetti dei cambiamenti sociali ed economici nei prossimi decenni sulla biodiversità e sulla fauna selvatica in particolare. Qui vedete gli effetti di diversi scenari di tipo socio-economico sulla ricchezza di specie a diverse scale, dove quello in rosso è lo scenario più sostenibile di tutti. Ecco, di questo ed altri argomenti relativi alla biologia, alla conservazione e alla gestione della fauna selvatica tratteremo in questo corso.